Ciao, eccoci arrivati finalmente allo studio delle Neide, il capolavoro di Virgilio. Partiamo subito da alcuni dati un po' più, se vuoi, strutturali, tecnici, per poter capire più a fondo il senso di questo capolavoro dell'antichità. Vediamo, viene composto fra il 30 e il 19 a.C., quando ormai Virgilio è a pieno titolo all'interno del Circo dei Mecenate. Ti rimando ad altre video lezioni sull'approfondimento di questo circolo e sulle pressioni che il grande ormai imperatore, chiamiamolo anche così, ma poi il termine è improprio, sta esercitando su alcuni artisti, parlo di Virgilio, parliamo di Orazio, parliamo di Properzio e altri, per poter in qualche modo diffondere quello che è il suo progetto ideologico, politico, sociale, ecc. Vedremo proprio nel corso di queste video lezioni sull'Eneide quanto vale questa pressione su Virgilio. Però il dato ormai è indubitabile, Virgilio è all'interno di questo circolo e di questo circolo e delle idee che si stanno respirando, diciamo così, in questo circolo, vive. Nelle Bucoliche aveva dichiarato che non vuole, non voleva cantare Reges et Prelium, ma quindi l'argomento epico per eccellenza, la guerra, non è contemplato nel suo orizzonte letterario. Nelle Georgiche aveva invece annunciato un poema celebrativo delle geste di Ottaviano, ma, attenzione, è molto riduttivo trasformare l'Eneide in un semplice poema celebrativo. Perché? Perché Virgilio resta un poeta neoterico. Cosa vuol dire neoterico? Qua ti rimanda alla poesia neoterica e alla video-lezione che abbiamo dedicato, introduttiva a Catullo. L'epos celebrativo non fa parte dell'orizzonte letterario di un poeta neoterico, come anche, invece, al contrario, fa parte del suo modus operandi in quanto letterato, la brevitas. Per cui niente di più antitetico, possiamo dire così, a quella che è la carta d'identità più autentica dell'identità letteraria di Virgilio. Come risolve questo problema? Virgilio si trova davanti ad una grande sfida, e vedremo nel corso di queste video-lezioni come riuscirà a vincere queste sfide, di fatto. Perché? Perché ripensa il genere epico. Ecco, il suo non è soltanto un pedisseco, così, copiare Omero, rifare Omero, alla luce dello stress che forse mi sta mettendo sulle spalle. Ottaviano, ecco, rifare l'Ilia dell'Odissea. No, non è questo, evidentemente. Vuole ricostruire un'idea epica, un'idea epica, un'idea epica, con quelli che sono gli ideali dei romani. Una specie di summa dei valori del Mos Majorum, che sì, è vero, Ottaviano vuole restaurare, ma che certamente anche Virgilio condivide. Soprattutto, ricordiamolo ancora per l'ennesima volta, dopo un secolo di guerre civili. Tanto più questo richiamo al Mos Majorum, ma questo diventa tanto più urgente, forse anche condiviso, condivisibile, con buona parte dei romani. Come è composta l'opera, appunto, è un poema epico, e il rispiro metrico tradizionale è l'esametro d'attilico, ti rimando alla video-lezione sul come si legge l'esametro d'attilico, qualora tu voglia approfondire questo argomento, in dodici libri. E anche questo è un dato interessante, il dato semplicemente numerico, perché parlavamo prima di brevitas. In che senso può essere breve un poema di dodici libri? Beh, certo, se il confronto è assoluto, beh, no, effettivamente i dodici libri sono un signor libro, tutti quanti noi abbiamo a casa una edizione dell'Eneide, però proprio un libricino, un agile volumetto non è. E siamo d'accordo. Ma se noi lo confrontiamo, come inevitabilmente anche i contemporanei di Virgilio l'hanno fatto, lo confrontiamo con i capolavori di Omero, cioè da una parte dell'Eliade e dall'altra l'Odissea, beh, il confronto sì, che invece ci porta a pensare che il capolavoro di Virgilio è breve. Perché l'Iliade è composta da 24 libri, l'Odissea è composta da 24 libri, quindi per un totale di 48, e allora 12 libri dell'Eneide rispetto ai 48 dei capolavori di Omero, beh, sono brevi? Possiamo dire in un certo senso sì. Ecco, cominciamo già a capire come appunto la reinterpretazione in chiave neoterica del genere epico viene operata da Virgilio, già semplicemente da un così essenziale dato numerico. La struttura è una struttura abbastanza semplice, cioè la fuga di Enea dalla città natale Troia, che ormai è stata distrutta dai Greci, l'aggancio inevitabile all'Iliade, e questo peregrinare di Enea attraverso i mari del Mediterraneo. Parliamo di Esadi, cioè gruppo di primi sei libri. La prima esade ha un contenuto che possiamo definire chiaramente odissiaco, ma in qualche modo richiama le peregrinazioni di Ulisse successive alla conquista, ovviamente da parte di Ulisse che è greco, la conquista di Troia. La seconda esade, invece, che compone l'Eneide, parla delle vicende belliche fra i troviani e alcune popolazioni del Lazio. Qua è inutile entrare nel dettaglio, sul libro troverai qualsiasi riferimento specifico al contenuto dei diversi libri. Ma capisci subito da solo che appunto se la prima esade risponde ai contenuti dell'Odissea, la seconda esade risponde ai contenuti dell'Iliade. Quindi anche in questo, attenzione, il modello viene ovviamente rispettato da parte di Virgilio, ma viene rovesciato. A livello cronologico, a livello proprio di narrazione, è evidente che l'Iliade è per la scena dell'Odissea. Nell'Eneide, Virgilio ha voluto reinterpretare il modello invertendone. Semplicemente, per adesso non siamo ancora entrati nel livello del contenuto, nel livello dello stile, in niente. In particolare, ma già solo da questi dati che sono veramente molto marginali, chiamiamole così, già potrai notare come in Virgilio, è tutto proteso verso una reinterpretazione del modello omerico. In questo caso, ci siamo fermati agli aspetti più strutturali. Mi interessa fermarmi adesso, invece, su un aspetto che è squisitamente narratologico, cioè appunto il narratore. Perché anche sotto questo aspetto, il rapporto con il modello omerico, è forte, è rivelatore di novità. Perché dico questo? Perché l'Eneide, l'Opera Epica, in generale, prevede, quasi a vuole, è connotata da uno statuto letterario molto specifico, che è quello in cui, appunto, all'interno dell'opera si possa rispecchiare una intera collettività. Ma ci ricordiamo la definizione dell'Iliade e dell'Odissea come la Bibbia dei Greci. Ecco, tutta la civiltà greca, di fatto, è contemplata all'interno di quelle due opere. L'Epica vuole questo, diciamo, proprio lo statuto, qua chiamo, lo statuto letterario, no? Vuole, appunto, rispecchiare una società e, ovviamente, i suoi valori, celebrare e ribadire quelli che sono i valori di una intera collettività. Questa è l'Epica, in generale. Il narratore, che cosa, in questo contesto, come si inserisce il narratore? Perché è vero che Virgilio assume l'eredità propria dell'epos romano e parliamo, appunto, di Nevio, Egno, in buona parte, anche, anche se non si può chiamare propriamente epica, la storiografia romana, che però celebrava il valore di Roma. Quindi Virgilio assume questa eredità, fa sua, questa eredità, non rinnega, evidentemente, non avrebbe potuto fare in altro modo, no? Vuole raccontare come il fato ha stabilito la nascita di Roma e il suo, in qualche modo, emergere nella storia mondiale. E anche il fatto che il fato vuole questo è che le diverse divinità in un modo o nell'altro, qualcuna con maggiore riduttanza, qualcun'altra con minore riduttanza, però concorrono al raggiungimento di tale scopo. Allora, lo statuto narratologico dell'epica è ovviamente un narratore onnisciente, un narratore onnisciente e oggettivo, in qualche modo, appunto, soprattutto questo è il professor Gian Biagio Conte, che forse è una più grande e studioso di Virgilio, parla appunto di oggettività epica che è presente certamente nell'Eneide e si manifesta attraverso un narratore onnisciente così come vuole lo statuto letterario dell'epica tradizionale. Ma, ecco qua la novità. Quella è la novità di Virgilio. Su questa su questa oggettività epica, su questo a livello narratologico narratore onnisciente che sa tutto di tutti che entra nella mente dei personaggi che conosce gli antefatti che conosce quello che è avvenuto prima e quello che avverrà dopo ecco su questo Virgilio innesta quello che appunto sempre Gian Biagio Conte chiama la soggettività tragica. Ed è una novità. Cioè, vuol dire che questo narratore a volte non perde l'onniscienza ma riesce a entrare dentro la testa dei personaggi a in qualche modo lasciarci anche una sua non dico opinione perché non c'è un intervento diretto questo dovremmo aspettare il novecento addirittura ma anche prima per sentire la voce vera del narratore ma è altrettanto vero che le ragioni dei personaggi trovano parola attraverso interventi del narratore stesso quindi in qualche modo perde questa oggettività se vogliamo dire asettica da cui guarda le vicende o dovrebbe guardare le vicende epiche e questa è la novità di Virgilio quindi sapere è una tensione che appunto dalla grande arte di cui lui è in qualche modo protagonista beh emerge una tensione costante fra questa oggettività epica e questa soggettività tragica in particolare riesce a creare il narratore del Neneide riesce a creare uno sguardo empatico con molti personaggi con alcuni personaggi in particolare un moltiplicarsi dei punti di vista che non è sempre solo quello del vincitore o del protagonista è talmente capace questo narratore talmente atipico anche per vogliamo dire rispetto al narratore tradizionale dell'epica che riesce a darci ragione dei motivi delle delle gesta di altri personaggi che non sono il protagonista in particolare questo lo vedremo lo vediamo in relazione alle ragioni dei vinti questo è molto importante perché noi appunto nell'elie del Nero di Sera i vinti sono sempre appunto sono tali rimangono tali anche mi perdoni il gioco un po' paradossale anche a livello narratologico i perdenti non hanno mai voce in capitolo sono sempre i vincitori che si dimostrano buoni a volte ricorderai appunto la conclusione dell'elie di Sera si dimostrano in qualche modo comunque protagonisti ecco a livello di narrazione ecco appunto a livello di narrazione beh c'è uno spazio che viene dato anche ai vinti all'interno delle neide e questa è una novità sicuramente virgiliana per entrare un po' nel dettaglio nel senso per lasciarti un minimo di esempio perché poi questa rimane un po' teoria narratologica campata in aria un esempio classico lo togliamo proprio dal primo libro di ritorno che l'opera comincia in medias ares con una tempesta iniziale scatenata dalla saturnia giudone che ha disperso la flotta di Enea alcuni troiani giungono alla reggia di Didone siamo appunto vicini sulle coste di Cartagine sulle coste africane di Cartagine e alcuni dei troiani che si sono ritrovati in mezzo ai flutti della tempesta che subito comunque Giove ha placato si ritrovano insieme e si dirigono verso la reggia di Didone appellandosi al sacro diritto degli ospiti perché sono stati trattati male e qua te la dico come parentesi quante volte abbiamo visto dei profughi naufraghi oggi ai tempi nostri non sto parlando di due o tre mila anni fa ai tempi nostri quante volte abbiamo visto respinti sulle coste dei profughi che cercavano aiuto quasi appunto appellandosi al sacro diritto degli ospiti Didone risponde a questi troiani che cercano aiuto che sono stati forse trattati un po' male dai primi soldati cartaginesi che li hanno avvistati risponde in una maniera molto diciamo banalmente bella togliete la paura dal cuore teugri troiani escludete gli affanni realtà dura e novità del potere mi obbligano a far tali cose e attorno guardare con guardia i confini quindi la novità è la situazione così particolare del momento che mi obbliga a trattare male tutti gli estranei ad avere un po' di sospetto almeno noi punici non abbiamo cuori così ottusi né il sole a gioco i cavalli così lontano dalla città tiria sia che voi vogliate la grande speria hanno già esplicitato quelle che sono le intenzioni treiani noi treiani hanno già detto a Didone che non vogliono fermarsi lì è alta la meta che li aspetta Italia e le piane Saturnie sia i territori di Erice e Rea Ceste vi congederò sicuri per l'aiuto e vi aiuterò con risorse interessante è disponibile è disponibile a tutto la regina è disposta ad aiutare questi esuri volete anche fermarmi con me in questi regni disposto anche a questo la città che organizzo è vostra attraccate le navi Troiano o Tirio per me sarà trattato senza alcuna differenza ma perché è importante questo brano perché qua sta parlando la regina della grande città antagonista tradizionale da sempre di Roma appunto l'epos tradizionale romano a partire da Egno e Nevio e la storiografia romana aveva insistito su una lontananza atavica fra Roma e Cartagine quasi a giustificare le tre grandi guerre carteginese tra III e II secolo a.C. qua al contrario Virgilio prende altre storie da un'altra veramente da un'altra un'altra immagine della della regina di Cartagine e di Cartagine stessa e del nemico il nemico tratta con umanità israeliani ecco quando parlavamo all'inizio delle lezioni su Virgilio appunto di grande maestro di umanità ma certamente questo è un retaggio che l'Eneide ci lascia oggi e fin qui è una risposta possiamo dire garbata garbata di 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 donne nei confronti dei triviani quando poi e questo fa ti ricorderai come procede perché a un certo momento Enea ha incontrato la madre venere sotto forma di cacciatrice eccetera eccetera lo ha rassicurato su tutto lo ha nascosto per vedere un po' che aria tira con questi stranieri cioè i tiri gli esuli di tiro che si sono trasferiti nella Cartia d'Ast nella città nuova cartagene significa città nuova neapolis ok non vorrei troppo fermarmi su queste cose però la madre venere lo ha in qualche modo protetto lo ha nascosto in una nube miracolosa perché appunto potesse vedere che aria tirava e a un certo momento ovviamente visto che la regina ha manifestato quelle che sono le sue buone intenzioni ecco aria da questo punto può finalmente apparire la nube nasconde la nube che la nasconde scompare e Enea appare a Didone e Didone ovviamente lo riconosce lo elogia come re di Troia di cui ha già conosciuto molte vicissitudini ma ribadisce quello che è il desiderio di offrire piena disponibilità ai troiani e allora dice perciò su via o giovani entrate nelle nostre case una situazione simile volle che io pure sbattuta fra tanti affanni mi fermarsi infine in questa terra non ignare del male impara a soccorrere i miseri ah molto molto importante questa frase perché ancora una volta ripeto il narratore entra dentro la testa di Didone che è un antagonista in qualche modo di Enea e il popolo carteginese è sicuramente storicamente un antagonista del popolo romano per farle dire però delle parole che sono ricche di umanità che valgono per tutti che devono valere per tutti gli uomini romani che stanno leggendo in questo momento l'Eneide e gli uomini e tutta l'umanità che leggerà quest'opera mi fermo su due termini simili sfortuna e disco perché perché Didone è così accondiscendente perché anche lei ha vissuto il dolore ha imparato il verbo veramente forte disco e disco significa proprio imparare perché ha vissuto una simili sfortuna cioè anche lei è un esole adesso non sto qui a riportarti tutte le vicende del zio del fratello eccetera e fugge da Tiro Tiro e Sidona sono le due grandi città della Fenicia fugge da Tiro e appunto viene portata dal fato sulle coste di Cartagine sulle coste africane allora è questa comunanza qua io la chiamo vicinanza ma è questa comunanza di dolore che apre il cuore di didone all'accoglienza alla solidarietà hanno subito la stessa sorte e quindi è giusto aiutarli in questo momento in cui lei si trova in una situazione di maggior agio poi che succederà il fato ovviamente porterà i due popoli ad allontanarsi anzi a entrare in conflitto ma attenzione qua mi fermo e chiudo il narratore ha voluto lasciare al nemico non al vincitore ma al nemico uno io lo chiamo spessore di umanità che l'epica tradizionale non avrebbe mai concepito richiamo ancora una volta nevio egno e buona parte della storia antica arcaica romana che hanno visto nei cartaginesi i nemici persone infide credeli prive del tutto di quel di quel mos maiorum che ovviamente sono le virtù romane quindi come tali dei personaggi a priori possiamo dire cattivi ma Virgilio invece ci insegna un'altra cosa che la insegna a livello narratologico è un narratore che riesce ripeto a entrare in empatia con persone lontane lontane sotto tutti i punti di vista da quella che è la sua vicenda esistenziale ma a livello direi più che altro anche contenutistico oltre che narratologico siamo tutti chiamati alla solidarietà perché in qualche modo siamo tutti accomunati dal dolore ma in questo e questo ci rende in un'ottima che appunto un'ottica semplicemente umana in qualche modo consanguinei è una parola che piaceva molto alla letteratura e alla storia della cultura greca in qualche modo per cui è importante questo mi sembra sottolinearlo Virgilio introduce quindi quelle che Gian Biagio Conte chiama delle figure tragiche perché dietro c'è tutto il repertorio della tragedia greca la classica tragedia greca di età appunto classica nel quinto quarto secolo avanti Cristo persone delle figure che sono votate al sacrificio perché perché c'è il destino che comunque è superiore è un destino che le schiaccia e in questo caso è un destino che schiaccia tutti quelli che sono i nemici di Roma che non per questo però devono essere tutti cattivi infidi e negativi vogliamo leggere tutto questo come la vittoria la traduzione in letteratura della ideologia augustea che appunto deve in qualche modo schiacciare l'antagonista mi sembra una visione abbastanza riduttiva non vedrei questo c'è un maestro di umanità quale è appunto Virgilio che ci sta insegnando questa cosa attraverso ovviamente degli espedenti che sono squisitamente letterari e in più aggiungiamo a quello accenno soltanto un altro problema grandissimo che sarà di tutte le nevi da cui dedicheremo altre video lezioni c'è una riflessione ancora una volta interessante portata avanti da un narratore ripeto che proprio grazie alla molteplicità dei punti di vista ci permette di affrontare in maniera nuova forse il problema della verità del giusto del male effettivamente alla luce di questo che abbiamo letto per quale colpa Didone verrà punita perché Didone sappiamo che nel corso dell'opera risulterà ovviamente fra la schiera dei perdenti viene in qualche modo schiacciata dal fatto ma per colpa di cosa ecco qua sotto questo aspetto Gianmiaglio Conte imposta una relativizzazione della verità no? parla esplicitamente di una verità che viene da Virgilio relativizzata non esiste non esiste più la verità mi sembra un pensiero più novecentesco che dell'antica Roma però è pur vero che ecco la verità si presenta sotto diversi aspetti con molte sfaccettature e il ruolo importante bello nuovo del narratore è proprio di quello a farcene cogliere almeno qualcuna e questa è una novità rispetto all'epica omerica che non presenta invece una verità una giustizia così appunto così polimorfa così polimorfa così appunto suscettibile di discussione anche semplicemente sotto questo aspetto e questa è la grande novità che il narratore delle nede porta con sé alla prossima